La tese è durata dieci anni, dice Lorena Saracino, non solo perché sinora le istituzioni non erano state troppo sensibili al tema della parità di genere, ma anche perché le associazioni di donne o per le donne troppo spesso hanno fatto da sole senza cercare un punto di coesione, che sembra arrivato negli stati generali delle donne, movimento lobby per usare le parole delle promotrici, che ha fatto da trade union tra tante realtà diverse e che ora avrà una casa, locali comunali in piazza Balenzano a Madonnella messi a disposizione dall'amministrazione di Bari. Il protocollo è stato firmato, c'è da dare un'imbiancata, mettere qualche arredo e poi si potrà partire con laboratori di artigianato, uno sportello di informazione per il lavoro al femminile, orti di prossimità, un festival del cinema mediterraneo in rosa e una scuola di politica. E già perché queste donne, senza sposare nessun partito, hanno detto chiaramente di voler fare politica, intesa come risoluzione dei problemi e visione prospettica. Al futuro sindaco di Bari chiedono di rispettare la promessa di dar spazio alle donne. Rispetto ai risultati delle elezioni in consiglio, 5 donne su 36 consiglieri non sono poi così deluse, perché se si va a guardare tra le 10.000 schede annullate, su 6.300 era stata espressa la preferenza di genere, pur non rispettando la regola della stessa lista.